generale vannacci la prego guardi che la possiamo aiutare aiutare si sono le minoranze che ci attaccano ma chi i gay femministe africani non ci attaccano quando vivevo a parigi prendevo il bravo ma quando prendevo il metro fingevo di perdere l'equilibrio perché perché per poggiare accidentalmente la mia mano sopra quelle delle persone nere ma non si fa per capire se la loro pelle fosse come la nostra ma la follia ma capi cosa che era diversa dalla nostra ma no era diversa era ma no più ruvida ma non so più nera e ruvida nera non normale ma che con c'è come la nostra ma noi io sarei così felice di avere le gono come figlia punto l'ha detto per ricordarle ogni giorno che lei non è normale ma povera ma non sa la pelle nera e ruvida e non bianca e liscia come la nostra che normale che concetto ha di normalità sente questo rumore elicotteri ma che elicotteri questa è la tipografia stai stampando il libro 93 mila copie quasi come fabio volo è normale è come la mano si ma non c'entra dei neri ma che la cista è normale torna fratelli di crozza da venerdì 22 settembre alle 21 e 25 sul 9 e in streaming su discovery plus